E' ancora ferma al palo la riattivazione del mammografo presso il distretto sanitario di Agropoli, collocato nel presidio ospedaliero cittadino. Mi sono recata presso il distretto sanitario di Agropoli, afferma l'ex consigliere di minoranza Gisella Botticchio, per chiedere ancora una volta le sorti del nostro mammografo. A metà dicembre 2021 mi fu detto che mancavano pochi giorni per l'attivazione. Botticchio è tornata al distretto nel fine settimana scorso. Il mammografo, stando alle promesse dell'anno scorso, sarebbe già dovuto essere attivo e invece alla consigliera di minoranza è stato comunicato un altro rinvio. Come mia grande sorpresa, venerdì mi è stato detto ancora una volta che mancano pochi giorni per mettere il mammografo a disposizione dell'utenza. Passano i mesi e nulla cambia. Dopo oltre 120 giorni al distretto sanitario ripetono la versione di sempre. Pochi giorni ancora e sarà attivato il mammografo. A chi paga le tasse dovrebbe vedere tutelato il proprio diritto alla salute. Riparte Botticchio, almeno così dovrebbe essere. Ma ad Agropoli anche per vedere riattivato un macchinario per la prevenzione del tumore al seno si continua a rimandare. Mammografo, ma non solo. Botticchio si sofferma su un altro servizio sanitario di grande importanza. Vogliamo parlare del pronto soccorso? Basta dire che non esiste. Per rendere bene e chiara l'idea sulla sanità ad Agropoli. Dall'Asl Salerno, nonostante le richieste, i tentativi di chiamate e messaggi, non è pervenuta alcuna risposta sull'effettiva data di rimessa in funzione dell'importante presidio medico. Dirigenti e responsabili evitano date ufficiali e annunci scritti. L'ultima comunicazione risale al dicembre scorso, quando Andrea Giannattasio, neodirettore amministrativo del DEA Vallo della Lucania Agropoli, assicurò resta ad Agropoli il mammografo presente presso il presidio ospedaliero di Agropoli, ho provveduto a fare tutto quello che serviva per non farlo partire. La documentazione firmata da tutti i soggetti coinvolti è stata inviata al direttore generale. Si attende la sua firma per trasferirlo in un nuovo ambiente individuato all'interno della struttura e per iniziare le attività. Ma sono trascorsi altri quattro mesi e il macchinario non è ancora tornato in attività dopo un ingiustificato stop che perdura da oltre un anno e mezzo. L'apparecchiatura, nei mesi scorsi considerato il suo inutilizzo ad Agropoli, ha rischiato di essere trasferita a Pastena, a Salerno. La scusa che era stata accampata era legata al fatto che la strumentazione si trova da ottobre 2020 nel reparto adibito a Covid Hospital, una giustificazione poco convincente. È impossibile che in una struttura enorme come quella di località Marrota ad Agropoli non si è stati in grado in tutto questo tempo di trovare una stanza alternativa per riattivare la strumentazione importantissima per le donne. Inaugurata solo pochi anni fa, si tratta di un'apparecchiatura digitale con tomosintesi estremamente performante e regolarmente funzionante. Dal 2019, quando venne inaugurato fino allo stop ingiustificato di ottobre 2020, prima che venisse chiuso in una stanza del presidio, il dispositivo ha operato oltre 1.600 screening. Da quel momento in poi le donne hanno dovuto rivolgersi altrove, dopo tanti soldi spesi. Un disservizio che perdura ancora oggi.